Popolari Glocalizzati Notizie Direttore Maurizio Compagnone Buongiorno dalla redazione, giovedì 11 dicembre, Hong Kong in apertura. Sono cominciate le operazioni di sgombero dell'ultimo presidio dei manifestanti pro-democrazia che da due mesi hanno dato vita all'occupazione delle strade del centro. Un deputato dell'opposizione ha negato il fallimento della protesta sostenendo che il movimento ha portato ad un nuovo livello il progresso politico dell'ex-colonia britannica. I manifestanti chiedono da due mesi maggiore democrazia in vista delle prossime elezioni presidenziali nel 2017. Cambiamo argomento, nel mese di dicembre potrebbe essere votata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU la bozza di risoluzione presentata dalla Palestina nella quale si chiede la fine dell'occupazione israeliana in Giordania entro il 2016. lo affermano fonti diplomatiche interne al Palazzo di Vetro un appuntamento cruciale per il Medio Oriente tanto importante da spingere il premier israeliano Benjamin Netanyahu a chiedere un incontro urgente con il segretario di Stato americano John Kerry incontro che a quanto afferma il portavoce del premier israeliano Yen Psaki si terrà lunedì prossimo a Roma. Psaki ha riferito che i due parleranno di diverse questioni tra cui gli sviluppi in Israele, Cis Giordania e Gerusalemme. continuano le reazioni internazionali alla pubblicazione del rapporto sulle pratiche di interrogatorio della CIA ai detenuti accusati di terrorismo nel post 11 settembre per rappresaglia i jihadisti indicano obiettivi ben precisi da colpire lo scrive SAIT, il sito di monitoraggio dell'attività online dei gruppi dell'estremismo islamico in messaggi web diversi i jihadisti incitano ad usare nei confronti degli ostaggi dell'Isis gli stessi metodi utilizzati dalla CIA. Intanto il carcere afgano di Bagram chiude per sempre i battenti è stato uno dei simboli delle torture e degli abusi compiuti dagli americani durante la guerra del terrore la notizia degli ultimi detenuti che hanno lasciato la prigione arriva all'indomani dalla pubblicazione del rapporto del Senato sulle torture della CIA La lotta all'Isis, il governo del Kurdistan iracheno ha riferito che oltre 700 peshmerga kurdi sono stati uccisi dall'inizio dell'offensiva dello Stato Islamico in Iraq i combattenti rimasti feriti sono invece 3.564 Questa era l'ultima notizia, l'informazione torna alle 14.30 circa vi auguro una buona giornata Grazie per la visione